Ai miei colleghi imprenditori consiglierei di investire nel bilancio sociale, è un impegno, però lo ritengo un documento che porta un suo ritorno, perché alla fine fa conoscere meglio l'azienda anche ai clienti, ai fornitori, a tutti e quindi c'è sicuramente un ritorno molto molto importante, perché più riusciamo a fare in modo di recuperare tutto quello che si può recuperare, quindi essere massimo sostenibile, poi alla fine si dipercuote anche dal punto di vista economico, non è quello solamente l'obiettivo, perché l'obiettivo è quello di un'attenzione per l'ambiente, però la sostenibilità dà anche questo grande vantaggio, non solo, ma questo grande vantaggio e ogni anno cerchiamo di darci degli obiettivi precisi per diminuire le emissioni, per migliorare i processi, per diminuire il consumo di energia elettrica, per consumare energia elettrica da fonte rinnovabile anziché da combustibile, siamo molto convinti di questo e continuiamo su questa strada. Grazie Grazie Grazie